Buongiorno a tutti, mi chiamo Sara e per chi non mi conosce o non mi segue assolutamente mi occupo di evoluzione di coscienza e questo riunisce un po' tutto quello che faccio. Si comunque guido, informo, insegno e do sostegno alle persone per qualsiasi situazione della loro vita quindi relazionale, di salute, economica piuttosto che di impresa, piuttosto che quello che è ma lo faccio attraverso il portare la consapevolezza su livelli spirituali delle esistenze quindi sull'abbracciare e conoscere la realtà da un punto di vista molto più ampio di quello che fanno tante altre discipline quindi riguarda gli aspetti mentali, emozionali, energetici, fisici e quindi visibili ma anche invisibili della realtà quindi anche tutte le leggi di come funziona davvero la realtà quindi le leggi invisibili che sono sì spirituali ma sono anche realtà scientifiche infatti la fisica quantistica e la fisica dell'invisibile sta proprio dimostrando e spiegando anche tutta una serie di concetti di conoscenze spirituali attraverso un altro linguaggio ma che porta sempre allo stesso risultato ed è questo viene fatto attraverso tanti strumenti quindi percorsi individuali, di gruppo, eventi attraverso tecniche, pratiche, attraverso esercizi, attraverso tanti tipi di lavoro su se stessi che abbraccia tradizioni, competenze e talenti che hanno a che fare con lo sciamanesimo, con la medianità con il coaching, con la psico-neuroimmunocrinologia, la PNEI, con la psicologia, con anche la medicina naturale con l'erboristica, con la naturopatia, con tanti tipi di cose insomma riunisco tante cose insieme per portare le persone a evolversi perché attraverso proprio aprendo la propria coscienza e osservando la realtà con una consapevolezza più ampia e conoscendo meglio se stessi la realtà si può veramente riuscire a vivere come nel nostro potenziale siamo appunto nati per vivere. Come siamo nati? Siamo nati liberi, siamo nati molto potenti, siamo nati come esseri divini incarnati e siamo tutti qui per dei motivi, siamo tutti qui con una propria missione, con dei propri talenti, con la propria unicità e siamo tutti qui per goderci la vita. Quindi non siamo qui per soffrire, per ammalarci e per stare male e per avere difficoltà. Certo la vita comporta anche delle prove, comporta anche dei momenti che possono essere complessi da affrontare ma sono fatti, la vita è fatta per essere goduta. Quando questo non avviene vuol dire che si sta seguendo qualcosa che non è veramente se stessi, che non è veramente la natura dell'esistenza e della vita ma sono condizionamenti, abitudini, credenze, sono schemi, sono fondamentalmente idee limitate su quello che realmente può essere vissuto, sperimentato e come può essere vissuto e sperimentato dall'essere umano. Tra tutto questo che faccio, proprio per portare evoluzione nella vita delle persone e al genere umano, in primis evolvendo me stessa, sto iniziando a condividere con le persone qualcosa che ha cambiato la mia vita rendendola un paradiso oltremisura. Non riesco a trovare un'altra definizione in questo momento. Si tratta dell'autodeterminazione e della sovranità individuale. Allora, cosa riguarda questo? Riguarda tutto un discorso che è politico, che è amministrativo, che è burocratico e che va approfondito. E non lo tratto in questa sede ma sto iniziando ad organizzare sia degli eventi dal vivo che degli eventi online e poi comunque posso rimandare le persone interessate alle organizzazioni a altre persone che si occupano di questo in maniera più professionale, più approfondita di quello che faccio io. Io mi limito a condividere quello che ho compreso in questo percorso di autodeterminazione e sovranità individuale che sto facendo e a dare un supporto alle persone per comprendere, per abbracciare questa possibilità e per comprendere come integrarla nella propria vita al meglio e come questo può essere in linea con gli obiettivi, con le necessità, con il percorso di ognuno. E nel corso che farò e che faremo, perché lo farò anche insieme al mio compagno o quello che verrà organizzato online, verrà approfondito anche tutta una serie di differenze che ci possono essere nel come fare questo percorso e in che risultati può portare. Oggi sintetizzo qui di che cosa si tratta. Si tratta della possibilità prevista per legge e tenuta nascosta da chi si occupa di legge a livello più ampio quindi da chi comanda tutto il sistema giuridico e anche di comunicazione e riguarda il fatto che noi per legge, tutti come individui, come esseri umani possiamo, perché già lo siamo, vivere liberi seguendo le nostre personali leggi. Questo si chiama appunto autodeterminazione quindi il diritto di poter vivere la propria vita secondo le proprie personali leggi ed è qualcosa previsto e sancito dalle leggi internazionali. Queste proprie leggi che cosa sono? Non significa che ognuno può fare quello che vuole a discapito degli altri ma significa seguire la legge del diritto naturale o del diritto divino. Infatti dovete sapere che nell'ordinamento giuridico di tutti gli stati del mondo o comunque quasi tutti, poi ci possono essere delle piccole differenze ma a livello globale comunque questo è vero, c'è il diritto positivo che ha a che fare con tutto l'insieme di leggi che sono di uno Stato. Sopra questo diritto quindi più in grande, più importante, più rilevante che abbraccia il diritto positivo, quindi lo comprende al suo interno c'è il diritto internazionale che regola invece i rapporti tra gli stati e tutto quello che accade oltre il singolo Stato quindi l'insieme di leggi e normative internazionali sopra ancora questo tipologia di diritto e questo in realtà l'abbiamo anche studiato sicuramente a scuola quando eravamo ragazzi c'è il diritto naturale o divino che è la legge insita nella natura dell'essere umano e nella vita stessa e ha proprio a che fare con la libertà, con il rispetto, con l'onore e con tutta una serie di altri diritti inviolabili dell'essere umano. Quindi è possibile attraverso un percorso burocratico quindi bisogna fare tutta una serie di documenti che si possono fare assolutamente in legge e sono assolutamente previsti all'interno di queste branche di diritto solo che non vengono raccontati, non vengono spiegati non vengono neanche insegnate queste cose agli avvocati all'università non vengono insegnate alle forze dell'ordine non vengono insegnate a chi si occupa di amministrazione pubblica soprattutto nei ranghi più bassi diciamo del sistema e soprattutto non vengono condivise ovviamente sui media e sui canali di informazione pubblica perché è qualcosa che non è particolarmente comodo a chi comanda o a chi governa il fatto che le persone sappiano che possono per legge essere libere libere di fare cosa? di fare quello che sto facendo io come vivo io? io vivo da qualche mese proprio perché ho scoperto tutto questo e come l'ho scoperto sono entrati in contatto per sincronicità che il caso non esiste quindi l'universo mi ha portato tutta una serie di persone e informazioni che mi hanno permesso di approfondire questo e è tutto un insieme di informazioni che sta viaggiando molto tramite il passaparola e sta viaggiando molto soprattutto tra quelle persone che si occupano appunto di evoluzione di coscienza o che fanno percorsi di evoluzione di coscienza che fanno percorsi spirituali o che comunque hanno una visione, una comprensione, una consapevolezza dell'esistenza che è spirituale e quindi che sono in un certo senso passatemi il termine senza nessuna stesa e senza nessuna critica ma un po' più avanti degli altri un po' più avanti nel senso che hanno già compreso si sono già accorti che non ce la raccontano giusta dall'alto che c'è qualcosa che non quadra in questo sistema e che ci sono tutta una serie di verità e tutta una serie di possibilità che l'essere umano può vivere che normalmente non vengono assolutamente indicate o anzi vengono addirittura forviate, manipolate per che cosa? per mantenere il potere, la ricchezza di pochi, tutto il mondo e questo insomma, questo non è una novità però come viene fatto? questo cambia attraverso le epoche quindi in questa epoca proprio attraverso la disinformazione attraverso una in realtà scolarizzazione che è inadeguata e che è anche fasulla e fittizia e falsa e menzoniera e parlo della scolarizzazione fin dall'elementare e attraverso gli strumenti di diffusione dell'informazione di massa come internet, come social insomma, la modalità utilizzata di più in questa epoca in realtà già da una quarantina d'anni almeno proprio per far sì che la maggioranza, che le masse vadano in certe direzioni, che pensino in un certo modo che agiscano in un certo modo e che questo modo sia a favore più che altro di pochi di chi comanda, di chi governa, di chi detiene in tutta una serie di poteri e di ricchezze lo strumento più utilizzato è la manipolazione del pensiero di massa quindi molte delle cose che magari io faccio, io dico ai più sembrano o impossibili o assurde o strane in realtà sono assolutamente possibili ma si scoprono e si impara a metterle in pratica se ci si libera da tutta una serie di condizionamenti se si smette di credere a priori a quello che ci viene detto che ci viene insegnato che ci viene mostrato da quelli che consideriamo organismi, enti, persone qualsiasi cosa fuori di noi a cui diamo una forma di potere, di autorità sulla nostra vita quindi solo chi è in grado di fare un passo per riprendersi la propria vita in mano quindi di pensare con la propria testa realmente di chiedersi realmente se quello che pensa, se quello in cui crede è veramente vero oppure no magari ci ha creduto ma non è necessariamente vero chi è capace di aprire la mente e seguire anche il proprio sentire, la respirazione seguire un richiamo più profondo verso un'apertura al nuovo un'apertura a una diversità un'apertura a comportarsi agire, pensare, parlare diversamente che è una delle cose che spaventa di più le persone chi riesce quindi a riportare realmente l'attenzione dentro il proprio interno e a chiedersi nel proprio interno che cosa realmente è vero o no e che cosa è giusto o no seguire o fare può avere la possibilità di cambiare la propria vita in meglio quello che vi sto per dire molti all'inizio a cui l'ho detto mi hanno detto no ma è impossibile ma se allora fosse vero lo farebbero tutti ma se fosse possibile una cosa del genere come mai allora viviamo così e tra poco vi dico che cosa sembra impossibile ai più ma no anche se quello che vi dirò tra poco probabilmente vi scatenerà una sorta di wow interiore non lo fanno tutti perché la maggioranza delle persone ha paura perché la maggioranza delle persone non crede in si stessa perché non ha sufficientemente autostima perché non si conosce perché è abituata a seguire ciò che arriva dall'esterno quindi a seguire aspettative di altri indicazioni di altri ad adeguarsi agli altri è abituata a cercare di fare le cose come gli altri perché la maggioranza delle persone ha paura di essere diversa ha paura di fare qualcosa che altri non fanno ha paura di essere giudicata dicevo quindi che la maggioranza proprio perché viene tenuta in realtà nell'ignoranza o viene tenuta dall'alto nell'informazione scorretta a cui è stata insegnata tutta una serie di cose sull'esistenza su ciò che siamo e su come funziona tutto che sono errate è abituata a vivere con tante paure una piccola parte del genere umano soprattutto negli ultimi anni ha iniziato percorsi di crescita personale percorsi di consapevolezza non necessariamente spirituali ma ha iniziato a comprendere che la vita non va a caso e che ci sono dei motivi per cui si sta in un certo modo piuttosto che in un altro per cui accadono delle cose piuttosto che no è iniziato a comprendere che l'investimento più grande che si può fare nella propria vita è proprio l'investimento sulla propria crescita personale su se stessi e infatti c'è stata la new age c'è stato anche tutto il periodo ci siamo ancora dentro c'è ancora tutto il periodo in cui si sono diffusi tutti i percorsi di crescita personale possibili e immaginabili in cui sono spuntati i coach come funghi insomma c'è comunque un cambiamento negli ultimi anni ma a questo cambiamento a questo cambiamento ha aderito una piccola minoranza del genere umano la maggioranza è ancora schiava mentalmente di tutto quello che ha nella testa e che crede che sia vero e che soprattutto rimanda proprio ad alimentare paure, limiti e di certo non la libertà e il potere dell'essere umano quindi queste informazioni sull'autodeterminazione e sul fatto che sia possibile vivere liberi e tra poco spiegherò con degli esempi concreti come arrivano dall'America un po' di anni fa tramite degli avvocati che hanno scoperto tutta una serie di cose che le hanno diffuse e si sta diffondendo per ora a poche persone appunto perché la maggioranza non fa le cose per primo la maggioranza non vive come un pioniere come uno sperimentatore non si mette a fare qualcosa di poco conosciuto che fanno in pochi e di diverso e soprattutto non si prende la responsabilità della propria vita totalmente la maggioranza è abituata a delegare all'esterno il potere sulla propria vita quindi l'abbondanza economica la delega al denaro o a chi gli dà lavoro quindi ho denaro o no denaro sempre per motivi che guarda caso derivano dall'esterno che è una grandissima illusione delega la salute la propria salute all'esterno ad altre figure esterne e c'è una differenza tra la delega e il sostegno e la collaborazione io non sto dicendo che si dovrebbe far tutto da soli ma si dovrebbe essere consapevoli che la nostra vita parte da noi la guidiamo noi e dipende da noi qualsiasi cosa non c'è nulla dall'esterno che in realtà influenza la propria vita siamo noi che permettiamo che l'esterno abbia questa influenza che è diverso quindi la maggioranza è abituata a dare allo stato a delle autorità esteriori ai datori di lavoro agli amici ai parenti al gruppo di pari ai genitori al partner a qualsiasi cosa che ci sia all'esterno il potere sulla propria vita l'autorità sulla propria vita e anche la responsabilità in parte della propria vita quindi tra virgolette la colpa è sempre all'esterno perché poi tra l'altro la maggioranza non ha neanche non differenzia neanche tra responsabilità e colpa vede tutto come colpe o non colpe quindi il concetto di responsabilità non è veramente diffuso più che altro è diffuso il senso di colpa che ha a che fare con il giudizio e ha a che fare con tutto il sistema religioso culturale e collettivo di tutto il mondo e quindi si è in larga parte abituati a dare le colpe all'esterno e a non prendersi la responsabilità della propria vita ma invece la nostra vita è nelle nostre mani e guarda caso si può far sì attraverso appunto strumenti di legge che esistono e che sono assolutamente riconosciuti e validi di far sì che anche in modo pratico e in tutte le questioni quotidiane questa responsabilità questo potere dicevo ci sono un po' di taglie nel video perché la memoria del telefono era da sistemare man mano dicevo questa responsabilità e questo potere che in realtà abbiamo può essere vissuto concretamente gestito concretamente nella nostra vita quotidiana in un sacco di cose proprio facendo un percorso di autodeterminazione e sovranità individuale che è un percorso burocratico in un certo senso perché bisogna produrre una serie di documenti ma è un percorso soprattutto di consapevolezza e di crescita personale perché lo farà solo chi comprende che c'è altro nella vita e c'è altro in noi stessi e che si può vivere diversamente e quindi si mette in discussione rispetto alle proprie idee rispetto al proprio sentire rispetto alle proprie paure rispetto a come si relaziona col mondo esterno e con gli altri e sceglie di trasformare appunto il suo modo di interagire con le esistenze con se stesso e evolverlo tramite quindi il fare dei documenti che in realtà significa fare dei cambiamenti in se stessi e nella propria vita si può arrivare a fare cosa? a vivere esentasse lo ridico esentasse quindi essere riconosciuti come soggetti che sono liberi dal dover pagare le tasse perché le tasse non sono in realtà un obbligo ma sono una scelta anche se vi hanno fatto credere diversamente e io vivo così vivo lavoro posso svolgere il mio lavoro posso fare insomma anche ricevute fatture tutto quello comprare vendere fare quello che devo fare totalmente esentasse si può vivere liberi dalle restrizioni covid e dalle leggi regionali dalle leggi nazionali anche rispetto ad esempio al alle libertà o no di spostamento piuttosto che vaccini o non vaccini piuttosto che si può essere esenti anche dal bollo dell'auto dalle sanzioni amministrative della strada si può pagare le bollette senza interessi e senza canoni si può anche non pagare la tassa di successione non pagare l'Imu non pagare l'Atari si può anche costruire nel proprio terreno nel proprio spazio sotto la propria proprietà e tutela si può anche costruire senza dover chiedere dei permessi di edilizi insomma si può gestire la propria vita secondo le proprie scelte nel rispetto della vita degli altri ma senza essere dei contribuenti di tasse e senza sottostare a una serie di leggi che per qualche motivo non si riconosce adatte e giuste nei confronti della propria esistenza perché faccio l'esempio delle tasse perché è proprio l'esempio che scatena nelle persone quel wow e allo stesso tempo quel non è possibile se fosse vero lo farebbero tutti no ci vuole coraggio per vivere liberi ci vuole coraggio per fare le cose diversamente ci vuole coraggio per fare delle cose nuove e diverse dagli altri no non lo fanno tutti è per questo che non lo fanno tutti fondamentalmente non perché non sia vero non sia possibile o perché sia difficile certo non è una cosa che si fa in un giorno ripeto è un percorso è un percorso sia di documenti sia di comprensioni e sia di cambiamento di attitudini di pensiero di azione ma si può fare anche in pochissimo tempo e ci sono persone organizzazioni gruppi di lavoro ci sono situazioni che aiutano che indirizzano e che guidano e che possono appunto portare a compimento aiutare le persone a portare a compimento questo percorso io l'ho iniziato questo percorso qualche mese fa verso novembre lo terminerò entro un paio di mesi ma ci sono persone che l'hanno fatto in molto meno tempo io l'ho fatto con i miei tempi ma sono cose che su cui studio su cui mi informo anche insieme al mio compagno e a tante altre persone da molto più tempo e quindi questo è semplicemente un video per stimolare la vostra riflessione per incuriosirvi e per darvi l'opportunità di conoscere qualcosina in più ulteriori dettagli me li potete chiedere privatamente su messaggero su whatsapp vi rimando all'evento che ci sarà a metà aprile in zona Ravenna dove appunto approfondiremo tutte queste cose insieme e verranno mostrate concretamente e spiegate dei dettagli in più anche rispetto alle leggi rispetto ai documenti insomma verrà fatto un approfondimento ma sarà una giornata più che altro anche proprio di crescita personale e di evoluzione di se stessi e della propria realtà stimolata appunto da questi argomenti quindi sarà una giornata di evoluzione verso una maggior libertà nella propria vita una maggior abbondanza economica una maggior potere e responsabilità di se stessi nella propria vita e magari farò altri video farò delle dirette se avete delle domande o qualcosa scrivetemelo in privato e vediamo come posso anche approfondire anche se non è il contesto di un video online quello in cui approfondire al meglio e poi ripeto chi è veramente interessato sarà indirizzato da chi se ne occupa nel concreto perché io questo percorso l'ho fatto assistita da persone che sono appunto esperti di autodeterminazione sulle qualità individuali che si occupano di questo e che sono esperte anche legalmente e burocraticamente io faccio più la parte diciamo di comprensione di consapevolezza di coscienza e di comunicazione di condivisione e anche di trasformazione guida e sostegno alla trasformazione della vita delle persone in questa direzione per chi fosse interessato è anche per questo che posso fare eventi dal vivo che i miei compagni possiamo fare eventi dal vivo che possiamo comunque fare gruppi che possiamo dare la possibilità alle persone assolutamente in legge senza essere rischio multe di spostarsi per raggiungerci ai nostri eventi è una delle tante cose che si può fare come autodeterminati oltre a quelle già accennate prima e poi ce ne sono anche tante altre quindi intanto vi abbraccio e ci aggiorniamo presto e buona riflessione grazie